Paolo Villaggio, genovese, di mezza età, sposato, di professione attore comico. È diventato popolare in Italia qualche anno fa grazie alla televisione. È passato dalla piccola platea del cabaret a quella immensa dei telespettatori, indossando i panni di strani personaggi destinati ad attirare sulla propria squallida umanità tutte le disgrazie del mondo, tutta l'arroganza e la prepotenza dei superiori. Ma il grande successo Villaggio l'ha conquistato recentemente, con l'invenzione essenzialmente letteraria di quella ragionier Fantozzi che, in due libri e in un film, riassume ed esaspera i più tremendi guai della nostra condizione umana. Come spiega lei, Paolo Villaggio, il successo dei due suoi libri su Fantozzi e adesso del film che ha lo stesso titolo di Fantozzi? Sì, ha lo stesso titolo di Fantozzi. Lei crede che si tratti solo del frutto di un particolare tipo di umorismo, di una tecnica, di una cifra particolare, di comicità, oppure se è qualche cosa altro? Parliamo del personaggio Fantozzi. Dunque è abbastanza arduo commemorarsi, anzi c'è sempre un leggero impaccio quando mi si dice, parla molto di un tuo momento fortunato, perché a mio avviso si tratta di un momento veramente fortunato per me, perché il successo, confermo enorme, di Fantozzi, abbastanza inaspettato, soprattutto da me naturalmente, che sono sempre piuttosto sfiduciato e che non ero mai stato accettato completamente dal pubblico, e soprattutto dal produttore, cioè dagli addetti ai lavori, e il successo era abbastanza impreveduto, soprattutto nella misura in cui si è configurato in questi ultimi mesi in Italia, cioè, vi dico subito, si tratta di un successo come quelli dei film Trinità, Malizia, cioè i film miliardari, e quindi vive un momento anche un po' imbarazzato per un sacco di motivi, per scelte, eccetera. Però questo successo era stato preceduto da un altro successo, a mio avviso ancora più terrificante per usare il linguaggio fantoziano. Il successo di due libri, Fantozzi e il secondo tragico libro di Fantozzi. Quando l'editore mi ha proposto di raccogliere una serie di collaborazioni che ho fatto per un suo settimanale in un libro che si chiama Fantozzi, la fiducia che il libro avrebbe avuto avrebbe potuto avere un minimo successo era poca, poi lentamente nel giro di tre anni si è configurato un successo clamoroso per l'editoria italiana, dove i grossi successi sono dell'ordine di 80.000 coppie. Scusatemi, ma continuo a commemorarmi. Il mio Fantozzi libro ha avuto un successo di 250.000 coppie, quindi un successo, lei che orecchia queste cifre facilmente, sa che è un successo proprio clamoroso, e subito mi è stato commissionato il secondo, che è andato meglio. È andato meglio. In tutto abbiamo superato le 500.000 coppie, sono cifre clamorose per l'Italia, dove sinceramente si legge molto poco, in realtà si legge molto poco. Io ho detto, no, le faccio questa premessa per spiegare le motivazioni vere, mi ha avviso il successo della maschera Fantozzi. Io sono ritornato all'editorio e ho detto, guardate, io non ho voglia di farlo, ve lo faccio così, con la mano sinistra, in tre settimane. Sarà più brutto del primo. Va da sé che chi ha letto prima il secondo libro dice, beh, il primo è meno bello del secondo, chi ha letto prima il primo dice, no, il primo è molto più divertente, sempre perché poi ci sono delle chiavi ripetitive, eccetera. Io l'ho voluto chiamare il secondo tragico libro di Fantozzi, e gli addetti ai lavori mi hanno detto, ma Villaggio, ma perché tragico, un libro comico? Lei disorienta il pubblico in questo modo. Invece io ho quasi ricattato l'editore, ho detto, no, o così o no. E a mio avviso ho fatto bene, perché in questa parola tragica c'è la chiave di Fantozzi, c'è la chiave di questo momento. Cioè a mio avviso un successo di questo tipo, 500.000 coppie superate e film milionario, non avviene a caso, non è una serie di coincidenze fortunate, non ci sono una serie di elementi che spingono il pubblico ad andare, a vedere, a comprare un prodotto, ad andare a vedere un film, senza una coincidenza tra personaggio e momento storico. E qui sembra che mi commemori, ma la verità è questa. lo spettatore, il lettore del libro, si è stranamente identificato subito nel personaggio Fantozzi, cioè in questo momento tragico. Adesso sono di moda, gli americani hanno rilanciato il film catastrofico, hanno rilanciato il tema della nostalgia e il film catastrofico soprattutto. A mio avviso, la risposta italiana, sembra sempre, mancanza di moda, ma la risposta italiana alla catastrofe olivudiana è appunto Fantozzi, cioè il piccolo Fantozzi, l'omino, l'omino che per anni è vissuto nel boom consumistico, cioè ha ricevuto dai mass media, cioè dalla televisione, dai settimanali e da tutte le informazioni possibili uno stimolo preciso, quasi un ordine, a consumare, ad acquistare, a vivere secondo determinati schemi. e lo schema di questa filosofia era precisissimo, attento che se compri e ti attrezzi in determinati modi, cioè secondo la chiave consumistica, potrai essere felice e vivrai in un mondo che sarà felice e contento per mille anni. Improvvisamente invece un crack strano, insomma tutto questo sistema meraviglioso, pieno di promesse, questo mondo fiabesco si è incrinato. è bastato che nel Medio Oriente una forte tensione internazionale chiudesse i rubinetti del petrolio perché tutta la grande economia mondiale entrasse in crisi. E Fantazzi si è trovato di tutte le grosse contraddizioni di questa filosofia della nostra cultura che tende disferatamente verso un obiettivo che a mio avviso è sbagliato. Cioè l'uomo credeva di essere felice con le autostrade, le macchine, gli intasamenti e in realtà invece il mondo nel quale Fantazzi è costretto a vivere è l'inferno. Lui vive pieno di nevrosi in una società che capisce ecco questa è la sua paura di burocrate. Il film per esempio comincia con una sequenza nella quale da 18 giorni non si hanno sue notizie e per 18 giorni nessuno si preoccupa di sapere dov'è e questo naturalmente sta a definire a limitare la funzione di Fantazzi in una società cioè nessuna. Lui questo lo sa. Sa che vive in una società che non lo difenderà mai abbastanza. Una società che ha paura in cui il padrone non è un padrone preciso non è il padrone di Monsutra V che era una persona fisica quindi aveva dei risultati cattivi ma comunque umani. Lui vive in una dimensione piramidale in un burosauro al vertice della piramide forse si dice anche nel film e nei libri non c'è nessuno. il megadirettore galattico esiste o no forse è una pura invenzione. Fantazzi ha l'unica possibilità di sopravvivenza di vivere quindi in una società che è invivibile ma lui non conosce altri modi per vivere quindi sorridendo lui corre incontro a catastrofi una dietro l'altra. Lui sa che un weekend al mare avverrà secondo gli schemi catastrofici cioè parte al mattino intasamento di 50 ore qui il linguaggio iperbolico del libro e del film che è quello che è stato apprezzato e mi ha avuto dai giovani. Pantozzi rimane intasato 50 ore le temperature sono 90 gradi all'ombra il mare divieto di balneazione perché ormai tutte le acque sono inquinate eccetera hanno strati di fango di melma cadaveri cose mostruose in effetti forse ripugnanti cioè l'umorismo in 2000 anni da plauto in poi voglio dire non ha cambiato meccaniche le meccaniche sono sempre le stesse cioè dissacrazione di un momento di un momento grave pomposo cioè il signore in cilindro che scivola su una buccia di banana farà sicuramente libe ridere invece il nella stessa situazione il poveraccio zoppo mettiamo ecco che scivola e beh è una situazione drammatica non comica oppure lo scambio di persona lo stravolgimento di una situazione reale in una situazione surreale queste sono le meccaniche eterne dell'umorismo quello che cambia è l'argomento col quale si fa ridere a mio avviso in Italia nell'immediato dopo guerra io parlo di quello che so io cioè un grande dell'umorismo Mark Twain diceva alla fine del secolo scorso che l'umorismo dura al massimo vent'anni a mio avviso invece con i mezzi che abbiamo a disposizione come questo per esempio come la televisione come come certo tipo di di letteratura che sono i rotocalchi i settimanali eccetera l'umorismo si brucia i personaggi il modo di esprimersi i personaggi si brucia in meno tempo i comici a mio avviso non dureranno più come Sordi Gasman e Tognazzi parlo dei grandi che hanno controllato proprio il mercato negli ultimi vent'anni i pilastri insomma della comicità della della commedia l'italiana un personaggio durerà al massimo io penso sia fortuna cinque anni perché viene consumato bruciato immediatamente i comici italiani del dopoguerra erano i napoletani abbiamo citato il grande Totò eccetera questi punti di surrealismo e i defilippo ed erano comici la cui dimensione i cui problemi erano l'immediato dopoguerra quindi la fame la miseria ed erano dei comici che avevano queste caratteristiche soprattutto fame il problema fondamentale era come procurarsi da mangiare il piatto di spaghetti avevano dei difficili problemi interpersonali le corna della moglie i rapporti difficili con la suocera e avevano queste caratteristiche che erano ignoranti soprattutto quando la spalla entrava e diceva que de fudere il comico diceva que de che e l'ospettatore medio che in effetti forse sapeva questa frase francese però diceva guarda come è tonto e si identificava in quel tipo di ignoranza e rideva con una certa cattiveria dell'ignoranza maggiore del comico erano buoni erano tonti ignoranti e molto simpatici cioè con la caratteristica era una grande simpatia è una grande saggezza meridionale saggezza dovuta a anni e anni di miseria e di fame poi il boom gli anni 50 allora nel cinema italiano scoppia una bomba comica strana insomma dopo forse dieci anni di tentativi in cui Sordi non veniva non veniva accettato dal grosso pubblico dove veniva considerato un antipatico Sordi diventa il primo vero antagonista antipatico comicissimo però della storia del cinema italiano Sordi in quel periodo è l'espressione dell'italiano medio degli anni 50 l'italiano medio che pur di arrivare a conquistarsi un posto al sole i beni consumistici è disposto a tutto a prendere a calci in faccia le vecchie come c'era Sordi a usare quelle punte di cattiveria e a dimostrare la viltà della sua disponibilità Sordi è un personaggio capace di ogni bassezza è qui la grande chiave e gli italiani sono riconosciuti in lui l'arrivismo però per arrivare disposti a tutto direi che Sordi maschera ha influenzato le altre maschere del cinema italiano Gasman ha ereditato qualcosa da Sordi Manfredi anche e lo stesso Tognazzi che poi è di estrazione nordica perché il cinema italiano poi che sono i cascami direi della commedia all'italiana cascami del non realismo decennati nella commedia dell'italiana un morismo basato soprattutto sulla parola sulla parlata romanesca dicevo che Tognazzi pur essendo di parlata nordica è un personaggio anche lui che ha vissuto soprattutto questi problemi e gli italiani sono riconosciuti in loro il successo commerciale è stato tale che il produttore influisce anche sulle qualità e per vent'anni per vent'anni proprio il quadrilatero ha controllato il mercato poi dicevamo il mondo di fantozzi il mondo di fantozzi cioè l'austerity improvvisa l'inquietudine e soprattutto l'insicurezza per il futuro questa società nella quale viviamo è giusto o non è giusto il sospetto di tutti soprattutto dei giovani che hanno cominciato a contestare e a rimettere in discussione tutto abbiamo forse sbagliato obiettivo è veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo di televisioni a colori e di beni di consumo di polaroid di macchine di cose è la felicità no la verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo è l'opposto questo tipo di felicità è altamente infelice ed ecco che l'italiano medio a mio avviso faccio la diagnosi rispondendo alla sua domanda iniziale si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi Fantozzi affronta sorridendo le varie situazioni che sono rivolta in volta Fantozzi in questo c'è già compreso in questo suo discorso la concezione che lei ha di un certo tipo di società del mondo in cui viviamo ma non è una concezione negativa non è un giudizio io non è che voglia fare della satira negativa o distruttiva no io dico che il momento è questo il momento è la nevrosi pura cioè forse la nostra cultura la nostra filosofia la filosofia occidentale ha mancato l'obiettivo è il momento di tirarmi in barca e di fare il punto vediamo insomma forse abbiamo sbagliato ma farlo serenamente insomma io penso che con Fantozzi con il discorso Fantozzi si possano fare serenamente trarre delle conclusioni insomma senza fare politica senza fare delle prediche sia ben chiaro ma dire attenzione non è vero che l'uomo che vive secondo questi schemi è felice che Fantozzi sia felice e infelice Fantozzi è così è uno che rinuncia a tutto non a una cosa a vivere a vivere come? a vivere in una società che lui capisce sa in vivibile è lucidissimo e non è tonto lucidamente sa che ogni suo tentativo finirà in una catastrofe però comunque continuerà disperatamente col sorriso sulle labbra a correre di catastrofe in catastrofe perché non ha altra scelta vivere in una società invivibile vivere come? sopravvivere in effetti senta veniamo un po' a lei come è arrivato lei a Fantozzi ossia attraverso anche alcune esperienze di carattere personale c'è qualche cosa di autobiografico? beh io direi che quasi tutto è autobiografico ho scoperto una cosa ecco io sono molto sincero io sono in parte Fantozzi in parte un altro personaggio Fracchia anche lui nevrotico la catastrofe lì è mentale mentre in Fantozzi ci sono delle manifestazioni esterne in Fracchia invece le catastrofe sono solo interne è una catastrofe nevrotica Fracchia direi ancora più è un personaggio che avrà più successo più in là ma ecco di fatti lo voglio riproporre in televisione a mio avviso negli anni 80 si riderà solo di situazioni mentali ecco la nevrosi la nevrosi pura insomma beh ogni personaggio autobiografico io sono al 90% Fantozzi questo questo di certo ho usato l'iperbole l'iperbole che consenta agli italiani che hanno apprezzato molto Fantozzi di non riconoscersi completamente perché l'italiano notate bene non ha il senso dell'umorismo ecco non accetta la satire infatti sono pochissimi i satiri in Italia insomma un grande Flaiano naturalmente ma anche Flaiano poi un bel momento io lo conoscevo bene Flaiano persona straordinaria prima di morire proprio si era ritirato si era ritirato perché non aveva più voglia di contattare un tipo di di ambiente sottoculturale diciamolo francamente con il quale lui non aveva nessun possibile rapporto l'italiano dicevo non ha il senso dell'umorismo e quindi non accetta volentieri certi discorsi li accetta sei contrabandati sei perbolici e allora per paradassualmente tutti quelli che hanno visto il film mi hanno fermato dicendo mi sono fatto un sacco di risate Villaggio non le dico che risate pensi che Fantozzi è uguale al mio vicino di sinistra oppure è uguale al mio vicino di pianerotolo è mio cognato è mio zio è quello lì è quello là nessuno però notate mi dice la verità Villaggio sono io questa a mio avviso è la verità in questo momento tutti siamo coinvolti in questa orrenda avventura che è questo errore a mio avviso catastrofico che la filosofia occidentale che la nostra cultura ha fatto questo è il sospetto di Fantozzi questo è il sospetto del pubblico italiano quindi in questo momento va a vedere Fantozzi e ride questo è il sospetto di Paolo Villaggio questa è la certezza mia qualche cosa abbiamo sbagliato senta da un punto di vista di mestiere lei trova maggiore soddisfazione in cinema in televisione o in teatro? guarda io teatro purtroppo non ne ho mai fatto il cabaret ho fatto il cabaret il cabaret è forse la dimensione più divertente perché il rapporto col pubblico è corposo insomma senti gli odori addirittura senti il calore di una sala viene il calore fisico il calore umano il calore animale in cabaret naturalmente io ho lavorato in cabaret con dei grandi del cabaret come gli Annacci i Cocchi e Renato che sono divertentissimi soprattutto a Milano che è una città che ama particolarmente il mio tipo di umorismo perché è una città nevrotizzata perché è una città proprio europea una città altamente industrializzata il pubblico di Milano per esempio in cabaret mi ha dato delle enormi soddisfazioni soprattutto perché in cabaret in teatro hai la possibilità di volta in volta di fare delle sperimentazioni e quindi quando lasci molto all'improvvisazione come nel cabaret e non sei legata a un testo come in teatro teatro che non ho mai fatto beh le soddisfazioni sono enormi quando nel corso di una serata vedi nascere improvvisamente magicamente questo è l'aspetto magico della cosa nascere qualcosa un discorso nuovo degli esperimenti che poi vedi che sul pubblico funziona questo è il clima meraviglioso il clima delle meraviglie e quindi un tipo di suspense che tu avverdi che tu vivi e comunichi al pubblico che vedi che il pubblico la sta vivendo insieme a te la televisione invece è molto divertente è molto divertente perché hai una risposta immediata su quello che fai il cinema forse di tutti i mestieri che abbiamo citati è il meno divertente però quello che ti consente maggiore libertà di espressione e soprattutto diciamolo francamente una cosa molto volgare i maggiori badagni quindi io ho fatto una scelta vergognosa però a mio avviso doverosa in un tipo di società consumistica come quella di Fantozzi senta lei è indubbiamente lo sanno tutto un uomo di cultura io vorrei chiedere io confermo non resiste ai complimenti quali sono le sue predilezioni culturali le sue letture i suoi eroi insomma anche le sue manie dunque io sì ho delle manie proprio io ho avuto una mania giovanile che è Hemingway quando parlo di mania dico che rileggo un autore lo rileggo lo rileggo varie volte lo sposo lo rileggo e rileggo soprattutto le cose che conosco meglio e direi che ogni volta arriva un tipo di emozione leggendo Hemingway di allora emozione dei 16 anni cioè emozione molto molto viscerale epidermica proprio fatta di di commozioni rabbiose cioè l'intento di Hemingway era un po' quello in effetti era un segno dei tempi era un un grosso giornalista beh adesso non si può giudicare Hemingway è un grande della letteratura però un grandissimo giornalista che riusciva a che aveva mitizzato in fin di conti la virilità e determinati modi di vivere il vivere alla Hemingway io Hemingway ogni tanto lo rileggo soprattutto a morte nel pomeriggio che è un trattato che gli spagnoli contestano di tauromachia sì sì ma che gli spagnoli contestano io ho fatto dei film in Spagna non ne vogliono parlare di Hemingway dicono che Hemingway non capisce niente poi in quel periodo a me è piaciuto molto il mondo di Zelda e di Fitzgerald beh a tutti naturalmente e ogni tanto io sono ritornato su Fitzgerald poi ho scoperto improvvisamente a tardi dico a 30 anni un grandissimo sudamericano Borges Borges che a mio avviso è un matematico fa delle costruzioni che sono quasi perfette e voglio ricordare la biblioteca di Babele e la lotteria di Babilonia nella sua collezione finzioni che sono straordinarie Borges forse è uno di quelli che mi hanno impressionato di più altri racconti di Borges che cito sono Ireneo della memoria però comunque Borges è un autore poco fertile ha dedicato un'intera vita allo studio della cultura europea però ha scritto abbastanza poco con Borges poi stranamente gli editori italiani hanno scoperto tutti i sudamericani direi soprattutto dopo Marquez dopo cent'anni di solitudine che naturalmente anch'io ho letto con grande entusiasmo ma una grande scoperta per me è stata un quasi sconosciuto pianista si adesso lo dico perché non per per il gusto della novità un quasi sconosciuto pianista uruguaiano che si chiama Felisperto Hernández il quale in 60 anni facendo il pianista dei piani bar di Montevideo aveva cominciato facendo il pianista commentando le pellicole mute ha scritto 7 racconti in tutta la sua vita 6 racconti sono 7 gioielli che sono il meglio della letteratura sudamericana cioè il meglio del meglio veramente straordinario c'è un po' di tutto c'è il surrealismo di Marquez c'è il rigore matematico di Borges un altro grande a mio avviso c'è la più poderosa incredibile straordinaria satire dello stalinismo è Bulgaco il maestro Margherita io credo che mai nulla di più sferzante è stato scritto contro lo stalinismo e contro i regimi totalitari Bulgakov basta ricordare di maestro Margherita la rappresentazione in teatro di Volan con i suoi aiutanti un pezzo indimenticabile e poi vecchio vecchio ecco adesso una domanda imbarazzante una domanda imbarazzante dimenticavo dimenticavo dico un mio grande amore giovanile un amore forse di tutti che è Kafka ma Kafka mi avviso proprio forse al vertice della piramide è nevrotica ecco le nevrosi kafiane sono di ogni tempo ecco mentre l'umorismo dico invecchia Kafka i grandissimi i classici rigori grandi mi invecchia mai adesso dei suoi colleghi scrittori non posso finire con una grande scoperta cioè io per anni in libreria ecco poi mi è successa una crisi strana da quando ho cominciato a fare questo lavoro che è altamente nevrotante non ho più letto io per 4 anni non ho più letto niente ho fatto una fatica ho letto niente ho letto le cose di messi altrui no non lo so proprio un momento di assoluta impossibilità ad avvicinarmi a un libro senza un senso di grande paura soprattutto le cose grosse noiose eccetera e io nella mia biblioteca avevo un mattone grosso bello preciso che avevo quasi deciso di morire senza leggere mai ecco io non ho ancora letto Proust ecco ricordate questo attenzione dico non ho ancora avuto il coraggio e quindi non avendo ancora letto Proust io sinceramente non ho ancora letto i grandi italiani ecco sinceramente tranne Gadde e Moravia ecco io ho letto Gadde e Moravia che passeranno questo secolo gli altri dicono non lo so io mi auguro che resti solo fantozze va bene a parte dico questa buttada io penso che fantozzi come maschera comunque potrei riuscire io avevo questo mattone nella mia biblioteca che era l'uomo senza qualità di Musil l'uomo senza qualità tre volumi inquietanti enormi io a 40 anni io ho 40 anni ho letto ho cominciato improvvisamente a leggere Musil e sono entrato in un'avventura in una stagione della mia vita perché la lettura di Musil che questo matematico che per 32 anni tutte le sere si scriveva a questo enorme saggio perché è un saggio non è un romano è un saggio autobiografico sulle mille variegature dell'animo umano io dico leggete tutti i Musil ma leggetelo con attenzione perché c'è tutto se volete avere la chiave per risolvere i vostri problemi per capire che cos'era l'Europa pre-rivoluzione russa pre-prima guerra mondiale che cos'è il nazismo e l'anti-ebraismo per capire l'uomo del nostro secolo in Musil c'è la chiave ecco questa è una mia questo signore di Klagenfurt che faceva il matematico e la cosa suggestiva è che quando lei mi dice ma degli italiani di adesso quando lei sa che Fantozzi è stato scritto in tre settimane che adesso non faccio nomi di nessuno ma che in genere un libro viene forgiato cucinato e poi messo alle stampe in due mesi in tre mesi in un anno quando leggi che Borges ha scritto le sue cose in una vita che Felix Berth Hernández ci ha messo 60 anni che Marquez è vissuto 12 anni in una pensione di Parigi scrivendo 100 anni di solitudine che il grande Robert Musil ci ha messo 32 anni e tu dici vabbè allora attenzione forse loro meritano un'attenzione particolare un'ultima domanda se lei avesse il potere straordinario è anche terribile di governare per un momento un paese di fare quello che vuole che cosa darebbe ai suoi cittadini per prima cosa dunque la domanda è una domanda un po' utopistica e quindi la risposta non può che essere utopistica una cosa che difficilmente a mio avviso l'umanità raggiungerà forse alla fine della sua evoluzione l'uguaglianza e penso che sia molti grazie a tutti Grazie.